Allora benvenuti, siamo di nuovo sullo sculpting dobbiamo fare un sculpting elementare di una faccia quindi la prima parte, che è questo piccolo video serve solo per avere grandi linee insomma la forma della testa di una persona e useremo questo scopo un solo pennello che è quello del grab o del prendi che vedremo che verrà usato in modo molto simile a come una volta si usava l'editing proporzionale di Blender però adesso secondo me è un pochino più spontaneo quindi la prima cosa che facciamo è cancelliamo il cubo ci mettiamo una forma più vicina a quella di una testa e prendiamo una UV sphere ecco questa UV sphere la vogliamo fare in modo tale che quando è visto di fronte i poli compaiono a sinistra e a destra in modo tale da simulare un po' la posizione delle orecchie per fare questo dobbiamo ruotarlo quindi facciamo RY che sarebbe l'asse che viene verso di noi che è quello verde e poi 90 e vedete che lui ruota invio ed è ruotato quindi a questo punto essendo ruotato ricordiamoci sempre che per evitare di perdere un sacco di tempo come ho fatto io pochi minuti fa occorre ogni volta che si fanno rotazioni di questo tipo degli oggetti ricordarsi di fare l'applica rotazione o altre cose quindi facciamo CTRL A e facciamo applica rotazione perché? perché se voi andate a vedere qua che sarebbe l'N e vedete la rotazione vedete che qui la rotazione di questo oggetto è messo a 90 questo così come la scala se non fosse 1 creerebbe dei problemi quando facciamo l'applica della scala o della rotazione quindi facciamo CTRL A rotazione vedete che la rotazione è tornata a 0 questo vuol dire che a questo punto siamo sicuri di lavorare sopra questo oggetto nel modo in cui pensiamo quindi in particolare la cosa che poi sotto sculpting non funzionava era la simmetria lungo l'asse X e quindi ho impiegato un po' a capire che era questo piccolo trucco applica scala e rotazione è una cosa che dovete sempre fare e quindi ve lo raccomando molto quando la fate questo genere di lavori ok allora adesso andiamo finalmente in modalità sculpting quindi siamo in modalità sculpting controlliamo statistiche quanti vertici abbiamo ne abbiamo 482 sono pochi dobbiamo averne centinaia di migliaia per scolpire e quindi ricaviamo una nuova mesh come vi ho fatto vedere la volta scorsa 001 remesh e quando ha terminato siamo a 163.000 ora 1 tastellino numerico per vederlo di fronte questo lo allorghiamo per vedere il nome ci avviciniamo e scegliamo e quindi lo vediamo per benino il grab il grab che è il prendi quindi il prendi questo oggetto che è giallo quindi permette di prendere però se lo prendiamo così praticamente prende solo un punto ed è di scarso aiuto quindi facciamo ctrl z e lo allarghiamo e lo facciamo diventare parecchio grosso quindi facciamo f allarghiamo fino a quasi forse anche leggermente di più le dimensioni della sfera in modo tale che andiamo a prendere il punto e poi andiamo vedete a stringere stringere per ottenere più o meno quello che potrebbe essere diciamo una testa quindi eventualmente possiamo anche andare sotto e magari prendiamo i punti più eccetera le stringiamo e poi andiamo ecco vedete che di lato non è tanto bello quindi premiamo tre tasto tasto del del tastierino numerico e poi andiamo praticamente a prendere un punto qua e cerchiamo di pilotare insomma spostando questa cosa qua in modo tale da avere ecco vedete questo qui è la forma che ricorda magari di un android però è vicina a quello che potrebbe essere una testa umana ora io questi video li tengo molto molto snelli quindi questo video lo termino qua nel prossimo video andremo invece a cominciare a incidere qualcosa su questa su questa testa quindi facciamo file facciamo save as e lo chiamiamo sculpting viso parte 1 salva come quindi spero che abbiate capito insomma come usare questo grab per poter lavorare sulla forma tenete conto che potete sempre col grab fargli assumere delle forme molto diverse e quindi esservi un salvato possiamo anche giocarci nel senso che potete sempre potete fare delle rocce modificando e praticamente facendo un po' di cose quindi ottenete praticamente delle cose alterate a piacere quindi se volete fare delle rocce col grab lo potete fare noi adesso l'abbiamo usato per fare un viso quindi arrivederci al prossimo video dove partiremo da questo avoid che abbiamo fatto e cercheremo di inciderlo